Ciao bambini, ciao bimbe, io sono Rosy e io sono Anastie, benvenuti nel nostro mondo dei giocattoli Sì, oggi abbiamo le uova di Pasqua, il sorpre d'uova, bellissime, rosa, vergi, tutte, però senti plastica Queste non ti mandano, quelle che ti porto dopo sì, davvero, mi portiamo il cioccolato, o che cosa? Lo vedrai dopo, cioè, un uovo fritto, un uovo fritto? Sì, no, è Pasqua, allora quella di cioccolato Allora, dimmi cos'è, ecco, allora, è della Hasbro il sorpresovo, sia di Princess Disney che di Merited Pony Poi di uomissimo, all'incentimos, lei chi è? Lei mi sembra Barbie, guarda, che bella Barbie Guarda che carina è qua, che bella, allora, una bionda, una mora e una rossa Esatto, io sono lei, tu sei lei e dobbiamo trovare la rossa Ok, senza rossa, va bene, non so, va bene, basta, tu invece che cos'hai? Io ho qua, cioè, tutte e due, la Simba Questa qui è di Shishilao, con i cagnolini, bellissimi, tutti morveggiosi Fashion fruit Sì, dove hai visto il fashion fruit? Fashion fruit Ah, un'esclusiva di Shishilao, sì, la borsina potrebbe essere o la fragola o la metà di anguria Tipo quella Tipo questa No, questa è la fragola Ah, è vero, è la fragola È una fragola buona E poi ce l'ho l'uovo di Maggie e Bianca Quella fa quello del telefilm Sì Scegliere cosa apriamo oggi Eeeh Amaravacici Vieni qua Fai, prendo la testa Uh, per non cadere, eh Non cadere Guarda che pesa tantissimo Benissimo, allora Ma tu mi guardi Meriton Pony? Certo, è il mio cartone preferito E chi preferisci? Io, che preferisco, che preferisco Certo che l'hai Ah, tu preferisci Apple Pie Sì Bye Pie A me piace anche Rainbow Dash Ti piace? Sì Ma hai visto che ce l'ha? Cos'è l'arcobaleno a forma di fulle? Sì, per se l'è velocissima Wow Poi mi piace anche Rarity Bellissima, che pelle viola Sì, io ho anche il peluche a casa L'ho vinto con mia sorella Laura Davvero? Che bello Vediamo che ci escerà Speriamo che ci esca qualcuno che piace a noi Speriamo La magia, 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 magia Ho fatto la magia? Sì Va bene Lei ha fatto la magia Guardate questo Ci sono le facce o no La tua? No La giornata è un po' posto Vieni Ah, bambini, uno, due Oh, non ci serve il colore Che bel colore che ha Vai, faccino Ora lo dobbiamo aprire Pronti? Andiamo a girare Vediamo che c'è dentro Wow Questa è una girare Vai Apri là Uno, due, tre Al contrario Oh, aio Scusa Non ho fatto male a lì Oh, non volevo Vai Vediamo Rarity Sì, sì Sì Quello che piaceva a me Quello che piaceva a te Ok, apriamola Vediamo subito com'è Com'è fatta Che bello La spazzolina per pettinarle i capelli Che belli i capelli Anch'io li voglio fucsia Fucsia Ti piace, no? Sì, fucsia, viola È bellissima lei Proprio una modella Sì Ci dobbiamo fare anche noi i capelli Poi lei non è un semplice pony No È un unicorno È un pony unicorno Wow Lei potrebbe essere la regina Se volesse Sì, sì, impegniamo Poi lei ha il potere tipo del tempo Che può controllare Può Davvero? Quindi potrebbe andare indietro E diventa regina E diventa regina Però lei è brava Non è che fa i complotti Sì, sì Va bene, allora Vai, infila la mano Non guardare Fai tu, fai tu, fai tu Pinkie, fai Hai visto? Quello che pensiamo a te Pinkie, fai Ma Sto uovo Indovina i nostri desideri È proprio quello che piace a noi È quella la magia Abbiamo fatto veramente una magia Siamo capaci Vediamo Ma come sembra questa scopola Vediamo 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 La miss si apre qua di fianco Fammi vedere Sì, qua c'è lo scotch Si apre qua di fianco Oh, si è tolto lo scotch Ma siamo proprio magici La miss Magic C'è anche un fogliettino Aprilo Vediamolo Io ho proprio questa qui Ma guarda Ci sono anche i pony Ma questa è la guerra dei pony Ma perché loro fanno la guerra? Ma è gigante sto foglio Sai perché? Perché ci sono tutti i pony Tutta la collezione Ma è questa? Tutta Ma c'è il pony con la coda La Pinky Pie con la coda di Di una sirenetta Di una sirenetta Di Ariel L'avrà presa Ariel Ariel, sì Secondo me sì E qua cos'ha? Qui cos'ha? Ah boh Ma che cos'ha? La magia magica Ma cos'ha? Pinky Pie con la stellina Poi invece che cos'hanno? Hanno una Queste sono sempre le coda di sirenette Ah ma queste proprio Vengono dal film Noi dovremmo guardare questa Pinky Per capire cosa gli passa per la testa Ma queste sono le conchiglie Ma cos'ha il pony? Scarichiamo Anzi andiamo a vedere il Pinky Andiamo a vedere lo stasera Sì O domani siamo Sì allora Qua abbiamo sempre le nostre pony sirenette Però la nostra Pinky Pie dov'è? Beh questa si illumina Non è questa? No Qua c'è il castello Poi qua c'è quella che canta No non è questa Sì è questa qui Questa è la nostra Sì Ma c'è anche lei sul E certo Sì E la nostra con in più la mollettina Che lei è fashion La teniamo ferma Sembra qualcosa che la riscalda quella mollettina Sì ora mettiamo la mollettina Potremmo se mettiamo noi sui nostri capelli con la mollettina Le rossa si a te la metto viola Cosa è più carina con quella viola? Dici? Ah non la vuoi tu? Non ti sta bene? Non ti sta meglio Ok Ok la pettine 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 però Però è suo glielo presta Poi qua Questa si mette sullo zoccolo Bello Pensa più a lei Mettiamolo a lei dai Guarda che carina Che belle Allora Li manca un'altra amichetta? Sì Dove sta l'amichetta? Amichetta Dove sei? Vieni fuori a giocare Ma io sento il rumore da lì Ma cosa c'è? Stavo uscendo fuori Hai visto? Dai calma che ora riusciamo a giocare Tieni apri la tu È Pinky Pie L'altra L'altra Pinky Pie La versione di guerra Sì la versione di guerra Diciamo quattro anni più Invece quattro anni era tre anni e più Noi ce la facciamo Vero? Noi possiamo Siamo grandi Guardi, porti, bionde, brune Non c'entrano niente però Però noi siamo così Allora abbiamo Casco Casco militare Tu vuoi aprire questa per vedere chi c'è al di? Ah Ah il casco Vediamo Il nostro Pinky Pie Dove? Do Ecco qua c'è tutto l'assemblamento della guerra Guarda c'è la principessa Twinkle Sparkle Combatte contro il cattivo Queen Crystal Poi guardate ci sono tutti cattivi C'è lei Uh c'è la Princess Celestia Che anche lei Arriva in battaglia Poi qua abbiamo Shining Armor Che non so se è buono Penso se di sì Pinky Pie Rainbow Dash E Shadow Bull Guardate che carini Poi Ah questa è la schienetta per noi La possiamo mettere nel taschino Io non ce l'ho in taschino Sai cosa ho trovato io? Cosa? Ho trovato il Pinky Pie Sì È il suo casco Casco Ecco Il Polo Spara Poli Spara Pinky Pie È volato via Aspetta vediamo più Interno Facciamo Oh È volato via il Polo Spariamo Vediamo se si arrabbia Rarity Se la colpiamo Che è stato? Ah lei Ok Io cosa? Io stavo qua a mangiare l'erba Ti ho vista sai? A far che? A mangiare l'erba? Ti è colpita Ma io non so beccare niente Io non ho Non ce l'ho la mira Mi rispetto Mi smettetela di litigare Vi faccio i capelli se volete Sì Ma io ci ho già Le proprio messe bene Hai visto? C'ho l'exitation qua Ah ma per tanto la fighezzina A me piace Nel mio capello La più carina E ora che colpiamo col pollo? Bambini Volete essere colpiti col pollo? Bambini Ah non ci sono riuscita Ma perché non ci riesco? Oh L'ho quasi colpita Hai visto? Sì ho visto Stavo guarda La nostra Pinkie Pie Sta portando il suo casco Le ragazze Così non si arrabbiano con lei Le regala se le piacciono Che carina Guarda com'è carina lei Nel corno Non sta bene Sì Ci sta tantissimo Bambini ma voi l'avete visto Il film Little Pony? Io non l'ho visto Tu l'hai visto? Neanch'io non l'ho visto Voglio vederlo tanto Voi come l'avete visto? E vi è piaciuto? Scrivetecelo qua sotto In descrizione Sì e anche forse Nome dei personaggi Così noi Diciamo cosa piace a noi E voi dite cosa piace a voi Esatto Mi raccomando Scrivete un hashtag bellissimo Sotto al commento Sotto al video Per essere salutati Mi impattino È il suo colpa di Pony È troppo bello Esatto Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi al Nostro canale Bambini Ciao 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 Ciao